Decine di blackout elettrici hanno interessato a macchia di leopardo numerosi centri della campania e in particolare il Sannio e Benevento. Guasti a raffica sulle linee di media tensione interrate hanno infatti fatto scattare l'allarme a livello regionale e locale negli uffici tecnici dell'Enel. Alcune zone di Benevento sono senza corrente ormai da ore. Centinaia se non migliaia di famiglie invece non si sono accorte di nulla per ora solo grazie al tempestivo intervento dell'Enel che con le squadre delle imprese private che per conto dell'Azienda Elettrica Nazionale garantiscono 24 ore al giorno il pronto intervento in caso di Guasti hanno tamponato gli enormi disagi che erano stati messi in conto. Per fortuna invece il piano di emergenza varato da Enel sembra reggere. Decine infatti sono gli uomini che in queste ore con ritmo frenetico e sotto un sole cocente effettuano scavi e le riparazioni dei cavi bruciati. Si tratta di linee da 20.000 volt che sono collassate, più nello specifico i giunti che si trovano tra la fine di uno dei cavi e l'inizio di un altro sono letteralmente bruciati. Da qui l'immediata interruzione di energia elettrica, una vicenda che come detto interessa non solo il Sannio ma anche altre province campane. Alla base del problema sembrerebbe esserci la continua richiesta di energia elettrica che in questi giorni ha raggiunto il picco massimo a causa del caldo. Centinaia di migliaia di climatizzatori, deumidificatori ed altri elettrodomestici che assorbono migliaia di megawatt che corrono sotto le nostre strade e piazze all'interno dei cavi, spessi anche 10 centimetri. A questo ovviamente si aggiunge anche il fatto che nella maggior parte dei cavi si tratta di linee molto vecchie che magari avrebbero bisogno di continua manutenzione non solo in questi periodi particolari dell'anno. Tornando a Benevento, i vigili urbani e i funzionari dell'Enel hanno predisposto l'impiego dei volontari della protezione civile che sono scesi in strada nei pressi dei generatori installati via dei mulini, via Colonnette, nella zona di Capodimonte. Enormi generatori arrivati da tutta la regione che per ora stanno garantendo il quasi normale funzionamento delle linee, mentre gli operai di volta in volta riparano i guasti dopo che un furgone attrezzato dell'Enel individua sull'asfalto i punti precisi dove scavare per poi individuare le linee interrate guaste.